cari amiche ed amici qui il vostro santo in cian iscrivetevi al canale fate clic alla campanella e compartite questo video se vi è utile adesso vi passo a suggerire dei numeri per il lotto e il 10 e lotto ogni cinque minuti vi suggerisco dei numeri preferenziali prendete nota 15 54 96 21 118 36 22 64 25 27 39 89 150 molti diranno la gallina canta 76 26 9 7 6 5 4 3 2 1 doppio zero come la farina e allora 61 67 63 68 69 molti di voi faranno il 69 c'è stato anche il maggio francese 88 90 94 96 98 99 0 mi raccomando l'importante che questi numeri voi li giochiate per 33 settimane di seguito ogni 33 minuti come minimo che potrete vincere non lo so ma se vincete qualcosa condividete questo video mi raccomando dal vostro sentenza in questo è tutto per oggi vi saluta ciao io ho fatto questo video perché un altro video mio sul smorfia numerica dell'otto 10 e lotto ogni cinque minuti è stato visto abbastanza volte allora ho sentito l'esigenza di fare un video perché forse molte molti di voi che hanno visto il video precedente volevano vederlo un altro arrivederci e grazie di seguirmi dal vostro sentenciano ciao a tutti i minuti è stato un dato che ho sentito l'esigenza di fare un video che io ho sentito l'esigenza di fare un video che fa